Nuovi spazi per attività ludico-motore, oltre che per lo sport e per altre manifestazioni in due scuole dell'ex decimo circolo a Salerno. Oggi il taglio del nastro per le strutture realizzate grazie ai finanziamenti europei del PON 2007-2013, fondi che hanno consentito di realizzare un'area esterna per i giochi dei bambini alla Matteo Luciani a Pastena ed un'altra per attività sportive ed in generale polivalente anche per iniziative varie, artistiche e ricreative alla Carlo Alberto Allemagna. Nella scuola di Torrione, dove partirà anche un campus estivo, l'intervento ha portato alla realizzazione di una struttura coperta in legno lamellare con pannelli solari ed una superficie di circa 200 metri quadrati in gomma. La realizzazione di questo spazio è per valorizzare l'offerta formativa in ambito motorio di cui è necessaria innanzitutto la struttura. Sono lieta che la realizzazione della struttura da parte della ditta che si è giudicata alla gara e grazie anche al direttore dei lavori, l'architetto Emanuel Pagano, si è realizzata in tempi utili e devo dire anche di qualità e di efficienza. Parimenti presso il Plesso Luciano, che nel mese di settembre avremo anche in quell'occasione l'inaugurazione, si è realizzato uno spazio giochi per i bambini dell'infanzia sempre all'aperto. Con il progetto nazionale Sporting Class, il decimo circolo già da anni, fin dall'infanzia, promuove l'attività motoria che è propedeutica all'apprendimento cognitivo dei bambini, soprattutto in ambito logico-matematico. Sono contenta che è una scuola che comunque lavora e che riusciva comunque ad utilizzare spazi inventandoli, adattandoli pur di far fare attività motoria ai bambini ormai da anni, per quanto riguarda il palestro della primaria, è riuscita comunque con, è vero, i fondi europei, ma una grande capacità progettuale da parte della dirigenza a realizzare una struttura del genere che è anche per il territorio. I due progetti di Torrione e Passna rientrano in un più vasto intervento relativo a tutte le scuole salernitane. Ci sarà anche Torrione Alto, la scuola media che fa parte sempre di questo istituto comprensivo, anche lì è stato fatto un intervento nella palestra, ma negli altri istituti sono stati fatti anche altri interventi, come alla Don Milani, che oltre alla palestra sono stati fatti gli interventi per eliminare le barriere architettoniche, oppure alla San Tommaso d'Aquino è stato ripreso un locale che è stato adattato a teatro, in verità era già teatro prima, ma insomma è stato recuperato. La scuola media tasso, anche lì sono stati fatti vari interventi, compresa una palestra. Poi c'è Calcedonia, anche lì diversi interventi, anche lì la palestra, insomma tutti quegli interventi che avevano veramente bisogno di essere recuperati in qualche modo. Sono, ripeto, dei fers che sono stati proposti a tutte le scuole.